Adesso vi faccio vedere come si possono marcare le mail in Thunderbird. Cosa vuol dire marcare? Vuol dire che in genere uno vuole marcare una mail come importante, come per esempio da rispondere, per fare la svelta cosa fa? La marca come ancora da leggere, vedete diventa in grassetto così. Questo non è un buon sistema perché intanto la conta di mail ancora da leggere aumenta, quando in realtà la mail è stata già letta, noi vogliamo solo marcarla come mail interessante da tenere sott'occhio, ok? Quindi questo, togliamolo il pallino qua, non va bene. Il pallino voi potreste averlo anche da questa parte, non cambia niente. Allora mettiamo che io voglio marcare questa mail come interessante, come faccio? Guardate, io schiaccio, la clicco col tasto sinistro del mouse, quindi selezionata, e schiaccio il tasto 1, diventa rossa. Adesso vado a cliccare da qualche altra parte, vedete la mail rimane rossa, e quindi io so che è comunque importante. Ne clicco un'altra, rossa, testa me stesso, questo rosso, importante. Cliccato 1, va bene, clicco in giro, ecco, resta così. Se voglio togliere la marcatura, tasto sinistro, clic, mouse sinistro sul messaggio, e poi ancora premio 1. Allora, dato che con i pulsanti 1 si può anche sbagliare, perché per esempio, vedete, se io clicco il tasto 2, viene marcata con un altro colore, poi uno si dimentica quale tasto faceva cosa, il modo lento per fare questo, che però è più facile ricordarsi, è questo. La marcatura funziona così, se selezionato il massaggio, date tasto destro, e poi qui andate sotto tag, che da voi in italiano forse sarà scritto etichette, vedete, io lo marco qua, importante, ecco, è diventato rosso, ok. Allora, lo riclicco, adesso voglio togliere la marcatura sempre col mezzo lento, quindi tag, tolgo, importante, via. Tag, voglio mettere un'altra marcatura, per esempio, to do, o later, ecco, questa è la 5, marcatura viola, eccola qui, eccola qui la marcatura viola. Allora, vediamo una cosa anche curiosa, curiosa, importante, è questa, che io un domani ho centinaia di mail, voglio vedere in un colpo tutte quelle che avevo marcato, anche perché magari c'è della roba pendente che devo fare, oppure perché è roba risolta da cui devo togliere la marcatura. Come fare? In questo caso, si clicca il pulsante tag qua sopra, anzi, ho sbagliato, in quick filter, tags, eccole qui, e qui ci sono tutte le mie mail taggate, e quindi in un colpo posso vedere tutto quello che è importante. Buon, ritolgo tag e vedo tutte le mail, ok, bene, secondo me questa è una feature molto utile di Thunderbird. Buon, questo è tutto, provate e poi mi saprete dire. Bye! Buon, 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 buon.